Grazie mille, mi scuso se mi soffio il naso, ma mi è scoppiata l'allergia in una giornata in cui Milano sembra inverno, per cui tutto insieme. In effetti parliamo di un tema di dissoluzione, quindi è comparsa qualcosa sopra la mia… Sì, perfetto. Allora, oggi concludiamo il nostro discorso parlando appunto del problema della dissoluzione del bello, della dissoluzione della bellezza, quindi in un certo qual modo chiudiamo il cerchio e chiudiamo anche il ciclo, chiudendo il cerchio. Già prima di Pasqua, una settimana fa, si era introdotto il problema del sublime, partendo dall'ipotesi che la dissoluzione della bellezza avveniva secondo due canali, due canali storicamente vicini e in un certo qual modo persino correlati. Una era il sorgere progressivo a partire dal Settecento di un tema antico che era il problema del sublime. Il sublime era un elemento dissolutorio della considerazione del bello per una serie di motivi e ne potrei citare tra i principali soltanto due per ricordare. Il primo era perché il sublime introduceva quella che viene chiamata la pluricategorialità dell'estetico, cioè la complessità della bellezza, l'incidenza che il bello aveva sempre più frequente con tematiche di ordine culturale e in specifico di ordine artistico, oltre che col bello naturalistico, ne complicava sempre più il concetto, tanto che questa complessità non poteva più essere detta con un solo sostantivo e doveva trovare nuovi modi categoriali. Il sublime è uno di questi modi categoriali, quello che ha avuto sicuramente più successo, perché il sublime dal punto di vista culturale ha significato una frantumazione del bello in due parti, ovvero il piacere estetico non è soltanto un piacere positivo, il piacere estetico è anche un piacere che può avere al suo interno una componente di negatività, una componente di incompiutezza, quel sentimento misto, quel sentimento contraddittorio che caratterizza culturalmente il sublime. Il sublime è peraltro concetto che dal punto di vista storico nasce nel Settecento, ma viene progressivamente messo al centro della tematica estetica anche per tutto quanto il romanticismo. Quindi in primo luogo il sublime segnalava la pluricategorialità dell'estetico, in secondo luogo però il sublime indicava anche la possibilità di una unità che non poteva più essere ricomposta, il bello era nato come momento di ricomposizione, come momento di unità, come momento armonico invece il sublime indica culturalmente parlando un momento di profonda disarmonia, un momento in cui l'estetico non è più visto come la pace dell'anima bensì al contrario come il suo dissidio, come una capacità di rottura che ben difficilmente poteva essere ricomposta. In questo ho ricordato, e il professor Abrusci me l'ha sottolineato, il sublime matematico e il sublime dinamico di Kant sono due concezioni del sublime che indicano la nostra incapacità di contenere tutte le possibilità dell'estetico. Quindi il sublime era già di per sé un elemento di rottura, il secondo che avevo annunciato che è in un certo qual modo l'oggetto segreto, l'oggetto nascosto dell'incontro di oggi è l'altro tema, l'altro tema che ho già accennato più volte, che è la problematica della morte dell'arte. Morte dell'arte è un tema, è un termine, è un'espressione che troviamo in realtà alle soglie della modernità romantica e lo troviamo con la grande estetica di Hegel, quindi siamo nei primi trent'anni dell'Ottocento. Hegel parla della morte dell'arte in vari luoghi della sua opera, della ciclopedia delle scienze filosofiche, ma in particolare nella sua opera principale, ovvero sia nella grande estetica appunto nell'estetica. E il concetto di morte dell'arte in realtà è un concetto che Hegel presenta non come qualcosa di assoluto ma collegandolo proprio alle arti belle, per cui quello che muore non è il principio artistico in astratto, non è il principio artistico in assoluto ma muore proprio il concetto di bello, muore il concetto di arte connessa alla dimensione della bellezza. E in che cosa muore l'arte? In che cosa l'arte perde la sua capacità di generare quella completezza ontologica che è propria della tradizione storica del bello? Ecco, l'arte muore all'interno di una dimensione che potremmo chiamare di pensiero, all'interno di una dimensione di nuova concretezza concettuale e questa nuova concretezza concettuale è incarnata dal principio di carattere filosofico. Quindi in un certo qual modo l'arte concettuale nasce proprio con il problema della morte dell'arte, della morte dell'arte in Hegel. E quando parlo di arte concettuale non intendo soltanto quel movimento artistico particolare del novecentesco che ha a che fare con il problema del concetto, ma proprio un'arte che non si rivolge più soltanto ai sensi, che non si rivolge più soltanto alla nostra sensibilità e non si rivolge neanche alla nostra volontà di inglobare in un intero il nostro piacere estetico, ma un'arte che in realtà è generata non dalle belle forme, non dalla bellezza di forme compiute, ma un'arte che è invece generata al contrario da una forma di pensiero esasperato che sempre di nuovo rinasce. Quindi si potrebbe dire che la tesi di Hegel, la tesi forte di Hegel, la tesi che poi viene variamente ripresa all'interno della cultura novecentesca e che appunto è l'arte a uccidere il bello, è l'evoluzione dell'arte, è l'evoluzione dell'artistico, è la complessità sempre più grande in cui si trova inserito il bello a dissolvere il concetto stesso. Concetto che se ci pensate ormai noi applichiamo sempre più in modo aspecifico e non indica in realtà una dimensione di necessità positiva e chiusa in se stessa. Quindi in realtà il problema che sorge, se vogliamo passare alla slide successiva, il problema che sorge è quello se possiamo parlare ancora di una estetica nella nostra contemporaneità, se possiamo parlare ancora di qualche cosa che si compie nel quadro di un percorso unitario. In quanto se i tentativi di definizione si frangono, si uccidono nei due problemi che abbiamo illustrato precedentemente, cioè il sublime e la morte dell'arte, le caratteristiche che noi abbiamo nel novecento, le caratteristiche che noi abbiamo in quella stagione che parte dalla metà dell'ottocento e arriva ai giorni nostri, basta andare alle biennali d'arte, basta vedere la biennale di Cassel o in modo più vicino la biennale di Venezia per comprendere come i confini del bello e i confini dell'arte siano ormai assolutamente superati. Non è più quello il fine dell'arte, la costruzione di un'arte bella, la costruzione di un piacere non è più la finalità del discorso artistico. Per cui il primo elemento che deve indurci a una riflessione è che abbiamo una contemporanea frantumazione, una frantumazione delle prospettive teoriche che non riescono più a raccogliere in un solo concetto la dimensione della bellezza, ma anche la frantumazione di un discorso artistico. Quindi la domanda che cos'è il bello dovrebbe oggi tramutarsi sempre più in una domanda alla quale poi cercheremo di dare una risposta nel dibattito, perché non esiste una risposta soltanto, ma che cos'è l'arte? Che cosa intendiamo oggi con il concetto di arte? Perché in fin dei conti fino al 700-700 compreso il concetto di bellezza e il concetto di arte si univano in quella dimensione che abbiamo chiamato arti belle, ma nel momento in cui si rompe il legame tra l'arte e la bellezza, ecco la frantumazione dell'arte rende oggi possibile una definizione dell'arte stessa, che cos'è arte oggi, ma è anche lecito porsi la domanda su un essere dell'arte come se l'arte fosse una dimensione chiusa, una dimensione ontologica a sé stante. Ecco, a queste domande su che cos'è l'arte, forse se passiamo alla slide successiva, forse possiamo dare qualche tentativo, dove è avvenuta la frantumazione? La frantumazione è avvenuta in molti modi, sicuramente frantumata l'idea di bellezza, ma bisogna anche chiedersi qual è la bellezza che eredita il 900, quale concetto di bellezza viene ereditato? Un concetto di bellezza che come ho detto, ho anticipato poco fa, un concetto di bellezza che non è più un concetto unitario, un concetto che raccoglie in sé determinate concezioni, niente affatto tra loro coincidenti e sono tutte concezioni che in un modo o nell'altro abbiamo già visto all'interno di questo breve ciclo, per cui quando noi parliamo di bello nel 900 intendiamo qualcosa di molto diverso, di molto diverso un concetto dall'altro. Abbiamo ancora l'eredità classica, quale eredità che Goethe crede di restaurare, abbiamo però l'inserzione tardo-romantica di Baudelaire che vede la bellezza come qualche cosa che è scisso, è frantumato, è simbolicamente frantumato tra la dimensione dell'eterno, cioè la bellezza classica e la dimensione della contingenza. Abbiamo un grande poeta del 900, forse uno dei più grandi poeti del 900, cioè Paul Valéry che ci ricorda come l'arte sia il frutto del caso, sia non soltanto il frutto della necessità dell'artista ma anche il frutto del caso, il caso è il materiale che viene usato, le nostre piccole sensazioni, la complessità di quella che lui chiama la vita nervosa metropolitana, ma come l'arte possa anche raccogliere in sé il contrario della forma, bensì e quindi quello che viene chiamata l'anamorfosi, cioè la capacità che le forme hanno di trasformarsi, la capacità che le forme hanno, e di questo l'arte del 900 è maestra, la capacità che le forme hanno di avere una vita, una vita che le frantuma, una vita che cerca di far venire fuori degli elementi e che non sono elementi immediatamente visibili allo spettatore, quindi l'arte non è soltanto la forma, ma l'arte è la modificazione, la trasfigurazione della forma e Valéry attribuisce una responsabilità storica, una responsabilità storica importante a quello che credo sia il vero movimento, o meglio quella serie di movimenti che costituisce davvero la rottura del concetto di bellezza sia classica, sia romantica, sia novecentesca e la rottura del concetto di bellezza è quella che viene data dalle avanguardie storiche. Un grande filosofo del novecento, Theodor Visegrond Adorno, nel suo libro che ha come titolo Estetica, un libro complesso, un libro molto bello, parla proprio di questa dimensione del grido che le avanguardie storiche portano all'interno dell'estetica e spezzano, proprio usa questa espressione, spezzano quella falsa placidità, quella falsa tranquillità che l'arte sembrava manifestare. E che cosa manifestano? Manifestano un grido, un grido di dolore, un grido di dissoluzione, un grido di impossibilità di ricostituire una forma. Insomma le arti del novecento, le arti dell'avanguardie, a parere di Adorno, mostrano una dimensione di rottura, di frantumazione del soggetto, di frantumazione della società, mostrano una dimensione di contrasto e non una dimensione invece di unità, di forma. Le avanguardie sono tante, non ne possiamo elencare tutte, ma passiamo dall'avanguardia del Dada. E Dada è una parola che non vuol dire niente, è la parola che dicono i bambini che non sanno ancora parlare, il surrealismo che esattamente quasi cento anni fa, nel 1924, con André Breton, vuole dare tutto il potere a un'immaginazione sregolata. Pensate come il surrealismo sia ancora presente nella cultura novecentesca. Tutti ricorderanno l'espressione del 68 francese sulle pavée la plage, cioè sotto il pavée la spiaggia. Ecco questa espressione in realtà è un'espressione di Breton e quindi ancora una volta il surrealismo manifesta l'insofferenza nei confronti di una realtà, per usare le parole di Adorno, piatta e levigata. Ecco dice l'arte nel novecento serve a questo, serve a mostrare una realtà che non è come quella che vuole mostrarci la bellezza classica, una realtà che è piatta e levigata. No, le avanguardie, il grido espressionista, il potere di un'immaginazione assoluta, la forza di un futurismo che vuole uccidere tutta la tradizione e tutto il passato, ecco sono tutte forze che vogliono mostrare come l'arte sia oggi. Un elemento di rottura, e non un elemento di unitarietà. Allora in questa confusione, in questa dimensione così complessa e articolata, vi sono delle linee conduttrici che possiamo seguire per cercare, non dico di controllare, ma di far comprendere questa dissoluzione, cioè quali sono le linee all'interno della quale questa dissoluzione può verificarsi. Ecco io ne ho identificate alcune, se passiamo alla slide successiva, e in queste linee forse possiamo leggere la morte dell'arte bella e la nascita, il sorgere di un concetto di bellezza che non è più quello da cui siamo partiti, ma è un concetto talmente variegato, talmente complesso, talmente stratificato, che forse non possiamo più dare adesso un nome unitario. Ecco le due linee sulla quale vorrei presentarvi qualche ipotesi che ha attraversato l'arte, il concetto di arte nel Novecento, in particolare nell'ambito figurativo, ma potremmo trasferirle anche nell'ambito della letteratura o in più specifico della musica. Ecco, quali sono due risposte possibili? Ecco, forse che le arti non sono più il risultato di un pensiero, ecco su questo grandi artisti come Clé hanno molto insistito. Le arti in realtà ci fanno capire in anticipo le linee attraverso le quali si manifesta il pensiero, le arti ci fanno capire la direzione che il pensiero, anche filosofico, può portare avanti. Ma il secondo, che mi sembra l'elemento, il filo conduttore che dovremmo seguire, ecco, che cosa sono diventate le arti? Ecco, le arti sono diventate occasioni di pensiero, le arti sono diventate simboli che fanno pensare. E insisto molto sulla parola simbolo. La parola simbolo, ve lo ricordo che l'abbiamo già visto, la parola simbolo vuol dire riunificazione, ma la riunificazione implica che le parti in gioco siano due e che siano separate. Quindi le arti mantengono in sé una dimensione novecentesca nel Novecento di profonda frattura, di profonda divisione. E poi il secondo, che ho messo qui tra virgolette, le arti che fanno pensare. Ecco, le arti che fanno pensare si richiama alla più bella definizione definizione di opera d'arte che viene data da Kant, quindi in tempi non sospetti, duecento anni prima del periodo in cui stiamo parlando, in cui Kant definisce l'arte, definisce l'arte che conta, l'arte che rimane, come una capacità che ha una rappresentazione sensibile di farci pensare molto. Appunto l'arte ci fa pensare, l'arte per noi genera pensiero, dunque l'arte diventa concettuale anche nel momento in cui non ha a che fare direttamente con il concetto. Ecco, io vorrei cercare di mostrare questa sera alcune linee, alcune linee attraverso le quali si dissolve il concetto di bellezza, linee non unitarie e premettendo a voi tutti che queste sono soltanto alcune linee possibili, alcune immagini possibili di una dissoluzione dell'arte che probabilmente è più ricca, più complessa, più articolata di quanto si possa dimostrare in un'ora soltanto di chiacchierata. Ecco, però vorrei dare due immagini chiave, due immagini chiave che rimangano anche nella memoria come forse le due parole che stanno a significare la fine del bello da un lato e la complessità dell'arte. E queste due opere che ora vi mostrerò sono la prima di Paul Klee e la seconda di Kandinsky. Il titolo non è mio, il titolo è di Klee stesso in questo caso ed è Equilibrio Instabile. Ecco, che cos'è l'arte oggi. L'arte è proprio questo Equilibrio Instabile di cui parla Klee. Equilibrio Instabile è ovviamente una dimensione ossimorica, ovvero sia sono due parole che sono tra loro in contrasto, perché l'equilibrio dovrebbe essere stabile. Invece questo è un Equilibrio Instabile. Ecco, se guardiamo questo dipinto di Klee, questo olio di Klee, vediamo come l'arte sia qualcosa dove le frecce vanno in tutte le direzioni. Ecco, l'arte non ha più una direzione sola, la bellezza non ha più una direzione sola, ma è una molteplicità di forze tra loro contrapposte. Quindi direi che l'arte è ossimorica, cioè l'arte unisce due opposti e l'arte è oggi un Equilibrio Instabile, esattamente come ci indica quest'opera di Paul Klee. Tra l'altro io consiglio sempre di andare a vedere a Berna il meraviglioso Museo Paul Klee, progettato da un altro genio italiano italiano, cioè Renzo Piano, che riprende in questo museo, proprio nell'architettura di questo museo, una curva sinuosa che è caratteristica del gesto di Klee, un museo straordinario che vale sicuramente un viaggio. La seconda invece è un'opera di Kandinsky che ha come titolo conglomerato. E qui è l'ironia di Kandinsky che mostra, sullo sfondo di una città immaginaria, mostra ancora una volta una concezione dell'arte estremamente profonda, cioè un quadro che raccoglie un quadro che pone in sede i quadri. Ecco, che cos'è l'arte oggi? L'arte non è più qualcosa di unitario, è un conglomerato, cioè una serie di cose diverse che non stanno più in un insieme. Ricordate che per Goethe la bellezza era qualcosa di organico, la bellezza era un organismo. Cosa voleva dire un organismo? Un organismo è una forma in cui tutte le parti si compenetrano, in cui la realtà delle parti non è più una realtà che mostra le parti, ma che mostra l'insieme. Ecco, l'arte non è più una realtà organica, questo ci sta dicendo Kandinsky. L'arte non è più una forma organica, ma bensì è fatta di parti che sono soltanto, se lo si guarda bene, sono soltanto dei frammenti di un'opera. L'arte frammentaria è un conglomerato di frammenti e non una dimensione unitaria. Ecco, sulla base di questi due elementi, equilibrio e stabile e conglomerato, io vorrei mostrare questa sera qualche linea che l'arte può prendere, appreso all'interno del Novecento. Linee che, come si potrà vedere alla fine, non hanno una sintesi, se non forse una sintesi totalmente contraddittoria. Infatti ho nominato ciascuna di queste linee dell'arte oggi, che ci permettono anche, se volete, una lettura filosofica delle forme. Le ho nominate con un nome seguito da un punto interrogativo, perché sono tutte quante prospettive che sono presenti all'interno dell'arte contemporanea, ma che non dicono tutta l'arte contemporanea e non dicono. Ecco, la prima via è quella del misticismo. Ecco, l'arte del Novecento è un'arte che ha lasciato grandissimo spazio alla dimensione mistica, cioè al rapporto diretto con il divino. Infatti, grandi pittori dell'avanguardia sono pittori di origini russe. Questo ci fa vedere due dipinti di Kandinsky e Kandinsky è convinto, e in mezzo ho messo un'icona, perché Kandinsky è convinto che l'arte abbia in sé, debba ancora avere in sé quella sua dimensione originaria, che non è quella di mostrare il visibile, ma di mostrare delle forme che ci facciano andare come le icone sante, come le sacre icone, al di là della forma. Ancora più evidente, questa, nella slide successiva la mostriamo, è Malevich. Ecco, Malevich è un monocromo e la pittura monocromatica è la pittura che forse ha maggiormente significato questa tendenza dell'arte novecentesca e anche questa impossibilità dell'arte novecentesca di ricondursi al concetto di bello. Cosa c'è di bello in un quadrato bianco su quadrato bianco? Una sottile linea grigia che mette un quadrato bianco su un altro quadrato bianco. Che cosa c'è di bello nel monocromo? Ecco, nel monocromo, nella pittura monocromatica maleviciana, abbiamo proprio questo. La pittura non raffigura niente, la pittura non rappresenta niente. Sapete come chiamava questi dipinti Malevich? Malevich chiamava questi dipinti delle icone, perché come l'icona non era importante ciò che veniva rappresentato, ma ciò che c'è al di là del rappresentato. Per cui la pittura monocromatica è il superamento della raffigurazione, è il superamento della rappresentazione, perché il compito dell'arte è quella di farci accedere a una dimensione mistica, a una dimensione religiosa, a una dimensione profonda che la rappresentazione non è più in grado di dire. Ecco, su questo faccio una brevissima apostilla. Il grande nemico dell'arte novecentesca, il grande nemico, che poi è il grande amico della bellezza, il grande nemico dell'arte oggi, è proprio la rappresentazione. L'arte moderna non è più rappresentazionale. Se il concetto di bello si riuniva ancora all'interno di un quadro di rappresentazione, ecco, l'arte oggi non può più rappresentare nulla, perché la rappresentazione ci distoglie da quella dimensione concettuale, da quella dimensione di profondità che invece l'arte deve possedere. Cioè l'arte non ha più come compito quello di rappresentare la realtà, non ha più quello non di imitare la natura, ma neanche di cogliere i rapporti che ci sono interni della natura. Quindi l'arte in questo è mistica. L'arte è un ritorno al misticismo, è un ritorno a una fase che precede la dimensione della rappresentazione. Vi è però un'altra possibilità, forse la parte, e della slide seguente, la parte dell'arte che ha avuto più successo all'interno della dimensione novecentesca, che è quell'arte che trasfigura la dimensione della corporità. Qui abbiamo delle immagini del più grande artista del Novecento, il grande rivoluzionario, quell'artista a cui si ispirano autori così diversi come Picasso e come Clay, che sono i due grandi, due grandissimi dell'arte figurativa del Novecento. E questa è una delle opere, poi ve ne farò vedere altre, di Cézanne, che mostra questi corpi che sono però ormai corpi assolutamente trasfigurati, corpi che sono diventati, per usare l'espressione cesagnana, che sono diventati dei volumi. Ecco, il compito dell'arte è sì interpretare la natura, ma costruendo nuove forme volumetriche e spezzando, spezzando, sempre più evidente in Cézanne, quel principio che aveva guidato l'arte moderna dal Quattrocento fino al Novecento, cioè il principio della prospettiva. Ecco, l'arte non deve più avere una dimensione di carattere geometrico spaziale, ma l'arte deve costruire nuovi spazi e non rappresentare lo spazio. Cioè l'arte è costruzione di spazi nuovi, non è affatto, non deve essere affatto la riproduzione dello spazio in cui viviamo. Appunto l'arte si allontana dalla raffigurazione e quest'idea del volume nuovo, cioè dello spazio nuovo, del rapporto nuovo con lo spazio, è qualche cosa su cui Cézanne insiste per tutta quanta la vita. Quelle che vediamo qui di seguito, la slide successiva, sono le bagnanti e furono proprio questi dipinti che noi vediamo qui in piccolino, furono proprio questi dipinti che turbarono profondamente Picasso, come vedremo tra poco, e che gli permisero il passaggio da una fase figurativa a una fase dove invece l'arte diventa qualche cosa persino di non gradevole. Guardiamo il dipinto centrale, nel dipinto centrale noi possiamo vedere che c'è tutto Picasso, ci sono dei corpi che non sono più corpi dipinti come si dipingeva o si rappresentava la corporeità nella grecità, ma sono corpi visti contemporaneamente da numerose prospettive diverse, sono corpi che come si può vedere non sono più neanche corpi perché si uniscono l'uno con l'altro in una massa di nuovi volumi e di nuovi colori. Questo raggiunge il vertice nella slide successiva, nella più grande raccolta di montagne che Cézanne dipinge, pensate che Cézanne dipinge in tutta la sua vita più di 120 rappresentazioni dello stesso oggetto, centro, cioè la montagna Saint-Victoire, la montagna che si eleva sulla piana provenzale. A poco a poco in centro vi è un'opera tra le prime rappresentazioni e sulla mia destra, sulla destra dello schermo, vi è una delle ultime opere, la leggenda dice l'ultima opera che Cézanne dipinse prima di morire, peraltro Cézanne morì di polmonite presa durante un temporale mentre tornava a casa da aver dipinto la montagna Saint-Victoire. Ecco, come si può vedere, qui non c'è più la montagna, qui non c'è più la montagna, qui ci sono macchie di colori sulla tela, cioè pensiamo a questo principio, l'oggetto si è dissolto. Ecco, questo è credo un elemento che noi dobbiamo tenere in considerazione se vogliamo comprendere il dissolversi della bellezza e il dissolversi dell'arte contemporanea. Ecco, è questa immagine di Cézanne, l'oggetto si è dissolto, non c'è più l'oggetto che appare visibile e riconoscibile, c'è un nuovo modo di interrogare la cosa, la cosa non è più un elemento riconoscibile, la cosa è proprio l'evento che ci accade, l'evento che ci arriva intorno, macchia di colori e se vediamo dal vivo quest'opera, vediamo che, altro elemento completamente nuovo all'interno della tradizione della storia della pittura che poi Picasso riprenderà, ecco la tela non è interamente coperta di colore, quel bianco che noi vediamo non è un bianco dipinto, quel bianco che noi vediamo è il bianco della tela, appunto si è dissolta l'unitarietà dell'oggetto all'interno della cornice, la pittura sfuma all'interno del frammento. Ecco il più grande interprete e della slide successiva, il più grande interprete di questa dimensione, anche con ascendenza di carattere africane, è naturalmente, e qui è un omaggio alle bagnanti di Cézanne, è ovviamente le donne di Picasso, donne che come si può vedere assumono maschere, forme, dimensioni che sono assolutamente plurali e anche qui qual è l'elemento, qual è i tre elementi che noi vediamo immediatamente e che caratterizzano tutto il nostro discorso? Vediamo in primo luogo un poliprospettivismo, cioè non c'è più una prospettiva sola, il corpo è in movimento quindi non c'è un punto focale. Il secondo elemento è evidentemente la dissoluzione della forma perché il volto della donna non è più il volto della donna e poi appunto la commistione di forme diverse, di generi diversi, per cui c'è sulla base del dipinto una traccia di natura morta che in realtà si disperde all'interno di questi corpi sgraziati, ma al tempo stesso di corpi visti da una pluralità di punti di vista. Ecco la strada, la strada che potremmo chiamare la strada della dissoluzione della forma, della dissoluzione della forma in una pittura che sarebbe sbagliato e superficiale chiamare una pittura astratta, ecco ma la strada della dissoluzione della forma, la strada sesagnana è forse la strada che maggiormente predomina all'interno dell'arte figurativa del Novecento che si accompagna alla dissoluzione del bello, ma si accompagna anche alla dissoluzione della forma poetica, alla dissoluzione della forma narrativa, alla dissoluzione della forma musicale che accompagna la grande vicenda dell'arte del Novecento. È proprio la costruzione non di un disordine, attenzione, ma di un ordine nuovo, di un ordine che viene costruito con principi nuovi. La musica dodecafonica ne è un assoluto esempio, la musica dodecafonica è una musica geometrica, è una musica ordinata, è una musica che ha un suo ordine, ma è una musica che non mira più alla dimensione melodica, ma che esaspera il principio armonico. Vi è però un'altra strada, non niente affatto contrapposte perché poi queste strade si intrecciano tra loro, sono strade che non sono affatto tra loro in contraddizione. Ecco un'altra strada, la slide seguente, è l'impegno politico, cioè l'arte entra nella politica, entra in modo preponderante nella politica e attenzione, entra in modo preponderante nella polis, nella vita metropolitana, l'arte diventa un fatto culturale che noi abbiamo sempre presente. Questa è un'immagine creata dallo stesso autore di Marinetti, il padre del futurismo italiano, un geniale dissacratore dell'arte che vuole, attenzione, lo ricordo, questo ci insegna molto sulla dissoluzione della bellezza, vuole uccidere i musei, distruggere i musei, uccidere la tradizione, uccidere quello che lui chiama il passatismo. Quindi l'arte deve ricominciare da capo, quindi l'arte deve ricominciare con un artista che non è più avulso dalla società, ma è un artista che invece è protagonista della società. È una banalità dirlo, ma lo dico perché non ci si pensa, ma gli atteggiamenti del primo Mussolini sono atteggiamenti che Mussolini non si inventa, ma sono atteggiamenti che Mussolini trae da due artisti, il primo è D'Annunzio e il secondo è proprio il futurismo italiano, quindi atteggiamento di rifiuto del passato, il fascismo rivoluzionario e l'atteggiamento dell'eroe nuovo, dell'eroe sensuale, e seduttivo che però entra in politica con la forza delle sue idee. Infatti l'uomo che più temeva in tutta la sua vita Mussolini fu proprio Gabriele D'Annunzio, perché Gabriele D'Annunzio è talmente così con chiarezza il suo padre putativo, per così dire il suo padre spirituale, che i padri come è noto si uccidono. Però l'impegno politico è anche impegno di guerra, di combattimento, cioè l'arte entra, e la slide successiva, l'arte entra violentemente, l'arte entra violentemente all'interno dei drammi del Novecento, all'interno della guerra. Questo è Guernica di Picasso, che noi troviamo a Madrid, al Museo Reina Sofia, un'opera non tra le migliori di Picasso, non tra le migliori di Picasso, un'opera gigantesca, chi la vista sa che è un'opera veramente molto grande, costruita tutte su questo livello di grigi, ecco, ma qui in realtà un'opera su cui do sempre suggerimenti per i corsi del futuro, potremmo fare un corso dove in 5 o 6 lezioni analizziamo ogni volta un'opera diversa, un'opera dell'arte contemporanea diversa, in modo tale che ne leggiamo anche i particolari, ma qui, come tutti sanno, Guernica è il dipinto di getto da Picasso a seguito del bombardamento a tappeto effettuato dall'aviazione tedesca di questa città, Guernica, appunto, che fu poi la prova generale, la prova generale dei grandi bombardamenti che poi furono protagonisti della seconda guerra mondiale. Al tempo stesso però l'arte, e questo è un elemento, andiamo alla slide successiva, l'arte diventa una vera e propria provocazione, ecco, se noi vediamo l'arte degli anni 60, se noi vogliamo definire l'arte novecentesca post-avanguardistica, possiamo definirla soltanto con una parola, ho messo un punto interrogativo, però la parola è provocazione, l'arte si confonde nella vita, l'arte diventa performance, cioè l'arte non è più opera, l'arte diventa azione di corpi, queste sono quattro opere di un autore ingiustamente dimenticato, Yves Klein, lo pronuncia la tedesca anche se è francese, che riprende delle opere del passato, ma qui è una performance, è la cosa centrale, prima è lui che si lancia dalla finestra, che finge di lanciarsi dalla finestra, la seconda sono dei cotton fioc, la terza è una modella, una modella nuda, che è una delle prime performance, poi ne vediamo un'altra molto divertente, una delle prime performance immersa nel suo colore, che è il blue Klein, un blue che noi troviamo nei colorifici oggi, che è diventato un brevetto fatto dallo stesso Klein, un blue meraviglioso, e che viene spinto da un uomo nudo, questa modella nuda, sulla tela intorno a degli spettatori che come guardate suonano, guardano come se fosse uno spettacolo, uno spettacolo classico. Tutti questi elementi, distruzione delle forme, provocazione, impegno politico, dimostrano come l'arte sia diventata una vera e propria frattura e manifesti ormai, una slide successiva, manifesti ormai una dimensione che la bellezza un tempo non possedeva. Ecco, l'arte è divisione, l'arte è frattura, l'arte è un io diviso e l'immagine di questa, se andiamo alla slide successiva, è l'immagine di un grande artista contemporaneo, di un grande letterato, ovvero sia, lo vediamo alla fotografia nell'immagine che viene dopo, ovvero sia Beckett, Samuel Beckett, questo volto che è così significativo sia dal vivo sia nel ritratto, ma attenzione, perché Samuel Beckett? Perché nell'opera che prima vi citavo, cioè nell'estetica, nella teoria estetica di Adorno, ecco Beckett in un certo qual modo è il sigillo dell'artista contemporaneo, è colui proprio che indica quella dimensione di non senso, quella dimensione di controsenso, quella dimensione di grida, quella dimensione di rivolta che caratterizza l'arte contemporanea. È un non senso, l'arte Beckettiana, che ci fa capire come non vi è più spazio per il senso, non vi è più spazio per un senso compiuto, è nota quella bellissima espressione poetica di Beckett, immaginazione morta immaginate, ecco immaginare un'immaginazione che è morta, è una bellissima espressione che dà proprio l'idea di un'arte che ha dissolto l'io, che ha dissolto quella dimensione delle facoltà all'interno della quale forse il senso dell'arte ancora si manifestava. Vi faccio vedere alcune immagini che possiamo andare velocemente, una è uno dei tanti urli che ha disegnato, che ha dipinto Munch, urlo tipicamente espressionista, c'è l'uomo che rifiuta la società, che rifiuta il sociale. Il secondo è a mio parere, se andiamo avanti con la slide, un esempio su cui bisognerebbe a lungo riflettere, questo è un taglio di fontana. Bene, io sono anche, a volte mi dico, vabbè, ma la domanda classica che mi è stata fatta una volta di fronte a un taglio di fontana era la seguente, ma cosa c'è di bello in questo taglio? Assolutamente niente. Ma la risposta assolutamente niente è già una risposta assolutamente importante, perché il taglio di fontana è un atto geniale, si può dire ripetitivo, e il taglio di fontana è tante cose insieme. È in primo luogo l'idea che il mondo è al di là della tela, ma è anche un chiaro elemento di simbologia, di simbologia sessuale. E fontana, attenzione, non era un artista che non sapesse modellare, è stata dopo della robbia il più grande ceramista che il nostro paese abbia mai avuto. Mostriamo un ulteriore, ecco, questa è Giacometti, ma come dire, troviamo questa immagine con simili in tutte quante i romanzi di Sartre. Questo perché l'ho scelto? Perché Mondadori l'ha scelto per illustrare la copertina della nausea. Ecco, la nausea di Sartre è un altro elemento che caratterizza la dimensione del bello contemporaneo. Insomma, l'arte è tante cose. L'arte, vediamo nella slide successiva, è mercato, l'arte è mercato, Andy Warhol lo dimostra. Ve l'ho preparata la slide di destra perché è bellissima. Se la guardate bene è un'immagine molto divertente perché è il Klein che disperde delle foglie d'oro nella Senna, in una performance irripetibile, naturalmente che fece una volta soltanto, e si scelse un testimone. Il testimone, questo signore con la faccia un po' stupita, era l'allora critico dell'arte del Corriere della Sera, che però risponde a un nome molto importante, cioè Dino Buzzati. E Dino Buzzati descrive benissimo questa esperienza estetica di questo artista che fa come suo atto artistico la dispersione di foglie d'oro all'interno di un fiume. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che l'arte disperde valore, quindi l'arte si dissolve all'interno del mercato perché Klein non faceva queste cose a caso. Era proprio un'arte che si perde all'interno del mercato e d'altra parte Andy Warhol è un autore inventato dal mercato, costituito dal mercato, che fa del mercato l'oggetto stesso delle sue opere. Ma andiamo avanti, l'arte è anche materia, l'arte è matericità pura. Un grande artista come Kiefer lo dimostra. Milano, le torri di Kiefer alla Bicocca sono fra le cose che valgono un viaggetto a Milano perché dimostra come la matericità dell'arte ci presenti una materia che è sempre più scomposta, una materia che non si riesce assolutamente a ricomporsi. L'arte però è anche sempre più esplicitamente pensiero, slide successiva, che abbiamo un pensiero che si traduce all'interno delle opere del grande Magritte in cui viene dipinto il paradosso, è il paradosso che viene dipinto. Quindi ancora una volta la bellezza si scioglie all'interno del paradosso, della contraddizione, della impossibilità di vedere cose che si vedono. Nella slide successiva mostra due opere, mettere i baffi alla Gioconda e l'urinatoio di Duchamp. Ecco, l'urinatoio di Duchamp è una delle cose più belle. L'urinatoio di Duchamp ci dice che l'arte non ha più in sé alcuna dimensione di originalità, perché l'urinatoio di Duchamp non esiste. L'urinatoio di Duchamp è questa fotografia, non esiste un originale dell'urinatoio di Duchamp. È un urinatoio che non viene collegato, cioè dimostra proprio il non senso. Ma attenzione, attenzione perché Duchamp era un artista concettuale, ma in che cosa consiste l'essere opera d'arte dell'urinatoio? Di esporre la sua immagine in un museo. Non abbiamo più al centro le immagini. C'è qualcuno che ha inserito una presentazione? Un attimo che esco e rientro. Beh, comunque, ormai siamo arrivati alla fine delle immagini e quindi quasi alla fine delle immagini non è importante. Allora, io vorrei sottolinearvi quattro punti che vorrebbero un po' chiudere il nostro discorso che abbiamo compiuto in questi cinque piacevolissimi incontri. Ecco, perché se noi dobbiamo definire a questo punto di che cosa stiamo parlando, di che cosa abbiamo parlato con questa carrellata di forme in formi, con questa carrellata di forme che non sono più le forme da cui siamo partiti, le forme della classicità, le forme della grandità, ecco, forse dobbiamo pensare a quattro termini, a quattro termini, a quattro espressioni che ci insegnano veramente a capire il senso dell'arte come dimensione di forma irriconoscibile. Ecco, le arti non sono più elemento di empatia e di naturalismo, cioè le arti hanno superato l'empatia e il naturalismo, noi con l'arte non possiamo più avere un rapporto di vicinanza empatica, di simpatia simbolica. Allora le arti, ed è il secondo, sono strumento di conoscenza e di tutto ciò che è tensione all'interno della conoscenza. Quindi l'arte non ci dà più l'immagine di bellezza composta, l'arte ci dà l'immagine di una bellezza in movimento, di una bellezza che è veramente la bellezza, una bellezza rivista di Faust, iniziata da Faust, in cui la bellezza è qualcosa che si muove, non è qualche cosa di statico. La bellezza è, come diceva Goethe stesso, la bellezza è grazia, cioè la bellezza in movimento. Ma proprio perché la bellezza è grazia, proprio perché la bellezza è movimento, non è staticità, ecco l'arte ormai insegna l'importanza di un sapere simbolico, simbolico proprio nel senso che dicevo all'avvio dell'incontro di oggi, perché ha in sé una dimensione di scissione che al tempo stesso vuole ricomporre la forma, ma che non riesce a ricomporre questa forma mai e che quindi fa vedere la traccia, la traccia della differenza. Sicuramente direbbe Baudelaire chi ha ucciso l'arte naturalistica, l'ha ucciso la fotografia, cioè qualche cosa che sapeva meglio indirizzare la dimensione della natura in forme riconoscibili, ma dopo la fotografia che senso ha riprodurre forme riconoscibili. Allora il simbolo, è l'ultima frase che vi ho citato, il simbolo non è affatto un modo per rappresentare il reale, bensì è un modo per interpretarlo, è un paese fertile. E qui vi lascio con delle immagini il paese fertile. Ecco il paese fertile con un gioco, con un gioco che vi invito a giocare insieme a me. Queste sono due opere degli anni venti di Paul Klee che Klee chiama Il paese fertile. Che paese sarà questo paese fertile? Bene, queste furono dipinte da Klee durante un suo viaggio in Egitto. Guardiamo allora che cos'è il paese fertile nella immagine successiva. Ecco questo è il paese fertile, è il deserto, è la valle dei re. E la valle dei re è la valle dei templi. E che cosa ci vuol dire? Che cosa ci vuol dire Klee con questo? Che la bellezza non è un fattore esteriore, la bellezza, la verità è all'interno. Quindi il paese fertile è all'interno delle cose, non è ciò che le cose manifestano nella loro apparenza. Quindi l'arte è un modo per superare, l'arte del novecento, è un modo per superare la dimensione della bellezza, della bellezza che appare, della bellezza rappresentata per andare in qualcosa di più profondo, per andare alla ricerca di una profondità che non può essere esibita. La fertilità è dentro l'opera, non è qualcosa che appare attraverso l'opera. Quindi, punto di domanda, una conclusione? Beh, una conclusione ve ne do alcune, ve ne do alcune lasciando poi alla vostra riflessione, alla vostra meditazione, darne altre. Ecco, l'arte è un piacere, sì, è un piacere, ma non è più un piacere piacevole, è un piacere attraversato dell'ascissione. L'arte è un desiderio, è un desiderio, ma un desiderio che non ci porterà mai alla comprensione e al possesso dell'oggetto. L'arte è, come abbiamo visto prima, una combinazione, ma una combinazione che conosce al suo interno la dimensione della frattura e non più la dimensione dell'unità. Ecco, allora, l'arte è un dialogo e per usare un'espressione di Clay, l'arte è un'espressione sua di Paul Clay, l'arte è una risposta alla varietà e all'indeterminazione di tutto il possibile che è in noi. Cioè, l'arte è possibilità, è una risposta al possibile che è in noi. L'arte del Novecento ha trasformato il concetto di bellezza nella migliore, nella più grande delle categorie della modalità. Dimostra tutta la complessità della relazione tra il soggetto e l'oggetto. Il possibile mostra tutte le possibilità della relazione tra il soggetto e l'oggetto. La bellezza è questo, la bellezza è diventata dimensione della possibilità. E' il tentativo, penultima slide, di trovare un ritmo, di trovare un ritmo e il ritmo tra i luoghi. Sono tre opere di Clay. Quella in centro si chiama Ritmo tra i luoghi, quella di sinistra si chiama Città felice e quella di destra si chiama Città devastata. Ecco, questa è l'immagine simbolica di ciò che è diventato il bello, che mantiene in sé ancora una traccia di felicità, ma che è anche in grado di mostrarci una città devastata e la vediamo tutti i giorni. Ecco, il tentativo di trovare un ritmo è forse il senso ultimo della bellezza che è rimasto tra noi. Una bellezza non più melodica, una bellezza non più armonica, ma una bellezza che ha in sé la frantumazione dei ritmi e che sempre più con difficoltà sta andando verso i ritmi. E quindi vi lascio con due espressioni che in un certo qual modo ho pensato fin dall'inizio del mio percorso e volevo presentarveli alla fine perché forse racchiudono in sé tutto il senso della bellezza. La prima ve la leggo, perché chi vede la bellezza dei corpi non deve inseguirli, ma sapendo che sono immagini, tracce ed ombre deve fuggire verso ciò di cui queste sono immagini. Ed è una frase che apparentemente è contemporanea perché manifesta il carattere simbolico della bellezza, il carattere di inseguimento della bellezza, la bellezza che non si riduce alle immagini, in realtà sono le enneadi di Plotino. È una frase che noi troviamo dal sesto libro delle enneadi di Plotino, quindi una cosa molto antica. Invece la seconda frase, che è veramente la parola migliore, l'espressione migliore con cui chiudere, è un'espressione del padre del postmoderno, che credo di avervi già citato, Jean-François Lyotard, che chiude bene il nostro ciclo, perché siamo partiti da una visione della bellezza come riconciliazione, dalla visione platonica della bellezza come riconciliazione. E quindi l'artista come colui che riconcilia, come colui che vuole ricostituire l'unità, che vuole ricostituire il bel rotondo sfero della bellezza. Ecco, invece Lyotard ci dice che l'artista non è colui che riconcilia, bensì tollera che l'unità sia assente. E in questa assenza di unità fa nascere e rinascere la dimensione desiderativa dell'arte. Quindi forse è veramente la frase migliore, quella di Lyotard, tratta nel discorso figura, per chiudere questo breve ciclo. E vi ringrazio per la pazienza che avete avuto fino a questo momento. Grazie professore, complimenti per la lezione, assolutamente buono.